Flavia Capone? La suggestione è tra quello che è stato e quello che sarebbe potuto essere. Il fumo è anche un po' questo, lo diceva l'autore in un'intervista. Il fumo è qualcosa che può nascondere un po' quella che è stata la realtà e può permetterci di riguardarla attraverso una cortina di cui poi non si vedono bene i contorni. Questo è un gruppo di amici che ha una propria gestualità, un proprio gergo, un proprio modo di definire le cose, un proprio modo di raccontarsi e di parlarsi. È anche un libro che racconta un grande periodo dell'Italia ma racconta anche di come l'amicizia può in qualche modo eternare alcune cose. Sicuramente i protagonisti sono cambiati, è cambiata l'Italia, però rimane un'unione che è sicuramente quella che poi tutti quanti ci troviamo a vivere quando abbiamo delle persone che sono costanti nella nostra vita. È come avere una piccola finestra all'interno di un mondo, che è un mondo piccolo, privato, di un'amicizia, che però poi diventa universale nella storia di un paese.